Un risultato importante, una misura che ha funzionato, circa 8 milioni abbiamo messo in campo per finanziare quasi 600 aziende che hanno preso un contributo che va dai 5.000 ai 10.000, un finanziamento a interessi zero, quindi sicuramente importante perché ha aiutato tutte quelle piccole aziende, piccoli professionisti che non avevano possibilità di accedere al credito perché non potevano prestare garanzia. Una misura che cercheremo di mettere in campo anche con il nuovo FSE cercando di esaudire tutte le richieste perché gli 8 milioni purtroppo non hanno permesso di soddisfare tutte le richieste aziendali. La regione Abruzzo si è mosso da questo punto di vista cercando di dare liquidità a tante aziende che stavano in difficoltà soprattutto in questo momento di pandemia in cui l'emergenza sanitaria ha avuto ripercussione anche a livello economico quindi abbiamo cercato di mettere in campo una salitazione tra cui il microcredito, avevamo un residuo appunto di 8 milioni e subito ci siamo attivati. Voglio ringraziare Abruzzo Sviluppo che ci ha supportato tecnicamente e che con pochissimo tempo, in circa tre mesi, è riuscito a fare l'istruttoria perché a volte la burocrazia era all'enne e invece da questo punto di vista ho voluto una forte accelerazione devo dire che Abruzzo Sviluppo, nella figura del Presidente Cianciotta, ha dato un riscontro positivo anche dal punto di vista della velocità del snellimento delle pratiche. Presidente, una risposta importante alle aziende, alle piccole aziende del territorio in un momento complicato? Una risposta che secondo me è anche un sinonimo di affidabilità perché in tre mesi dalla chiusura dello sportello alla presentazione della gradatoria, alla liquidazione sui conti correnti, credo che sia quasi un record nazionale questo conferma di quanto la struttura tecnica di Abruzzo Sviluppo non solo sia affidabile ma sia molto competente e quindi ovviamente come Presidente non posso che essere orgoglioso ma credo che tutti gli abruzzesi debbano esserlo. In questi dieci anni il microcredito che è una misura per le piccole e medie imprese ha distribuito sul territorio regionale 60 milioni di euro a fronte di 5.400 imprese. Sono nati circa 6.500 posti di lavoro, parliamo ovviamente di imprese piccole ma che costituiscono come voi sapete molto bene il 96% dell'architettura industriale della nostra regione. Quindi credo che ancora di più questa misura si conferma idonea in un momento di grandi difficoltà. Grazie.